Attenzione prego, gentili soci e clienti, vi informiamo che alle 15.30 i lavoratori del punto vendita canteranno tutti insieme l'inno d'Italia. Vi invitiamo a unirvi al coro per ritrovare un momento di unione. Insieme ce la possiamo fare. L'Italia, l'Italia, sei testa, vedremo vicino, sentita la testa. Dove è la vittoria per portare la donna che si chiama, di Roma, di Roma, di Roma, di Roma. L'Italia, l'Italia, sei testa, vedremo vicino, sentita la testa. Dove è la vittoria per portare la donna che si chiama, di Roma, 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 di Roma. Dove è la vittoria per portare la donna che si chiama, di Roma, 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 di Roma. Grazie. 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 Grazie.